Le 19 e un minuto. GR24, il sole 24 ore. È braccio di ferro tra Europa e Russia dopo lo stop al gas a Sofia e Varsavia. L'Europa mette a punto il sesto round di sanzioni. Vladimir Putin interviene nuovamente, avverta europei e Stati Uniti. Se minacciati dice useremo armi che nessuno ha. Cognome ai figli senza automatismi. Decisione storica della consulta, quella della madre, quella del padre o anche entrambi. Samantha Cristoforetti in orbita verso la stazione spaziale internazionale. Per l'astronato è il regalo di compleanno. Più bello. Buonasera da Gigi Doneglia, microfono da Roberta Frisani in regia. Adatto a tutti noi di Radio 24, il gas dunque al centro del braccio di ferro. Difficile chiamarlo diversamente tra Mosca e l'Europa. Tra Mosca e i membri dell'Unione Europea. Questa volta il bersaglio diretto sono appunto la Polonia e la Bulgaria. Grazie a tutti.